Se da una parte abbiamo uno spreco alimentare pro capite di circa 65 kg all'anno, dall'altra ci sono circa 2,7 milioni di persone che chiedono aiuto presso un'organizzazione di assistenza per procurarsi un pasto. A questo va aggiunto che ogni anno le piccole e medie imprese italiane del commercio e della ristorazione producono 1,2 miliardi di euro di eccedenze alimentari. Evitare che queste eccedenze diventino spreco è possibile ed è l'obiettivo di Bitgood, la piattaforma digitale antispreco di confesercenti presentata in conferenza stampa alla Camera dei Deputati. La piattaforma Bitgood è accessibile via web o attraverso l'app per iOS e Android. I donatori potranno utilizzarla per inserire i prodotti da donare e il sistema individuerà automaticamente il beneficiario più adatto in termini di disponibilità al ritiro dei prodotti, vicinanza sul territorio e rapidità, rating assegnato agli operatori. Perché è importante questa cosa? Beh, prima di tutto non dimentichi, io voglio sottolineare una cosa, il nostro mondo, le attività di vicinato sono attività che noi diciamo a chilometro zero perché sono ben inserite nei territori, nell'ambiente in cui lavorano, in cui vivono e diciamo che questo tipo di operazione in modo volontaristico va avanti da tanto tempo. Dov'è la novità? È che questa piattaforma certifica in modo chiaro, trasparente chi mette cosa e chi utilizza questa cosa. Il tutto coinvolgendo l'Anci che sarà presente oggi a questa presentazione, quindi attraverso l'Anci tutte le amministrazioni comunali potremmo fare in modo che questa opportunità venga davvero ad essere calata sui territori utilizzando anche quello che è stata la legge Gadda del 2016 che prevede uno sgravio fiscale per quelle attività che utilizzano questo tipo di, come dire, di mettere in circolo queste eccedenze. Perché è importante? Perché il tema della sostenibilità sociale ed economica è un tema importante, una sostenibilità ambientale anche e quindi riuscire a sistematizzare questo tipo di attività volontaristica permette di sprecare meno, restituire di più a coloro i quali ne possono utilizzare e ai comuni di avere dei costi inferiori rispetto alla raccolta di queste eccedenze che non vengono utilizzate. Quindi ne guadagna il sociale, l'ambiente e giustamente utilizziamo questa legge per fare in modo che anche l'imprenditore che utilizza questa piattaforma abbia un suo riscontro in uno sgravio fiscale. La piattaforma permette anche di tenere traccia della provenienza e della destinazione delle donazioni. Grazie alla sua tecnologia di certificazione Bitcud produce automaticamente tutta la documentazione necessaria per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste introdotte con la legge del 19 agosto 2016 numero 166, detta anche antispreco, promossa dall'onorevole Maria Chiara Gadda. Dal 2016 abbiamo una legge che ha reso più semplice il recupero e la donazione per solidarietà sociale e questa legge mette in relazione le imprese di tutta la filiera produttiva del settore agroalimentare ma non solo perché la legge 166 consente il recupero e la donazione di alimenti, di farmaci, di prodotti di cartoleria, di cancelleria, di prodotti per l'igiene della casa e anche dei libri, questa è l'ultima novità. Quindi l'eccedenza diventa un valore, diventa un bene per le tantissime associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio nazionale. Quindi prodotti che ad esempio perdono il valore commerciale ma che sono buonissimi, ottimi e perfettamente consumabili possono diventare un bene per tante persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Questa è l'economia circolare, mettere in relazione i bisogni delle persone con anche le disfunzioni del sistema e questo ha un impatto sicuramente dal punto di vista ambientale perché non sprecare significa non soltanto ridurre i rifiuti ma significa anche avere bene in mente cosa significa produrre ad esempio gli alimenti in termini di consumo di acqua, di consumo di suolo, di emissioni di anidride carbonica ma soprattutto quello che la legge 166 ha messo sul tavolo, è proprio il caso di dirlo, è l'impatto sociale dello spreco che dobbiamo evitare dando nuovo valore all'eccedenza che è la parola più preziosa.